Buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al concetto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di inquieto notizie. Oggi lunedì 20 maggio cominciamo sfogliando le pagine di Calabria Ora. Il quotidiano diretto da Piero Sanzonetti titola Ciucci ci riprova a tre pronta entro l'anno. PD sulle barricate la finisca di prenderci in giro. L'amministratore dell'ANAS arriva in Calabria. Porto più traffici ad aprile ma pochi margini di crescita. Si consolidano i servizi spot ma servono nuove compagnie. A fondo pagina il progetto Nascettoria Nuova Mafia No per liberarsi dal gioco delle Endrine. Tante le adesioni ma l'editatore Spirli nota l'assenza dell'aggiunta Romeo. PSC comune sottorganico agli esperti 105.000 euro. Palmi assegnati in carichi esterni a quattro professionisti. Il lavoro dovrà essere ultimato entro un mese per evitare il commissario. Candidoni Cavallaro riparte dai vecchi progetti. Il due volte sindaco si ricandida immobilismo in questi dieci anni. Il candidato della lista Colomba ha parlato del piano regolatore generale comunale dei lavori per la realizzazione della casa di riposo per anziani. Rosarno Bonelli ospite al forum romano sull'innovazione e a gioca Tauro piccoli grandi attori in scena. I ragazzi del laboratorio teatrale richiudono la stagione di Gian Gurgolo protagonista della commedia è stata una vecchia capretta. E a fondo pagina un calendario di eventi per Santa Rita, Rosarno, previsti tre giorni di festeggiamenti per la Santa Umbra. Gli eventi iniziano oggi e terminano mercoledì. Passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud. Beni confiscati servono più fondi. Questo è il titolo. In Sicilia, Calabria e Campania si trova a quasi il 75% dell'intero patrimonio pubblicato dalla relazione dell'agenzia che gestisce gli immobili sottratti alla criminalità. In alto parapodio oggi il funerale di Cirillo e di spalla Polistera, il sindaco tuona in piazza. Sono onesto e comunista. Andiamo ad approfondire queste due notizie di Gazzetta del Sud e lo facciamo a pagina 17. Il sindaco contrattacca in piazza. Siamo appunto a Polistena. Tripodi, sono onesto, comunista e rivoluzionario. E vado avanti. Tanta gente ha risposto alla chiamata dell'amministrazione comunale. Oggi il funerale di Vincenzo Cirillo. Varapodio è ancora sotto shock. Verifiche in corso sul racconto di Antonio Burzumi, il giovane che ha detto di aver ucciso per una lite appunto Cirillo. Rosarno stasera su Rete 4, diretta in piazza. Passiamo alle pagine del Coutinho della Calabria. Vi ricordiamo che sono poche le notizie oggi perché il lunedì è tanto lo spazio dedicato allo sport. Distributore a ferro e fuoco, isola Caporizzuto, ignoti, nazione durante la festa in onore della Madonna di Capo Colonna. Barra e magazzino sulla 106, incendiati e pompe di carburante squarciate all'interno del quotidiano per l'unica pagina dedicata alla piana. Gli ultimi della piana sul Rai 3. Stasera la puntata dei 10 comandamenti si occuperà dei casi di Rosarno e San Ferdinando. Ricordati di santificare le feste. Il titolo scelto per parlare di migranti. Il programma è condotto da Domenico Iannacone. Santo Femme da Spromonte, pagine di storia con il libro di Domenico Forgione. A Galatro Uzzava, il corpo non si trova. Il rumeno è morto, negato domenica scorsa. Nella Viga, Castagnara, i carabinieri chiederanno di svuotare l'invaso parzialmente. Città Nuova al via oggi la gara della ristorazione a Polistena. Tante eccellenze. E' appunto la gara internazionale della ristorazione dell'istituto di istruzione superiore Renda di Polistena che si svolgerà a Città Nuova. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna domattina alle 8.30 come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti da Lucero di No, l'agurio di una buona giornata. Grazie a tutti.